Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi festa della Repubblica, anche Siracusa celebra il settantesimo anniversario. Celebrato in Piazza Doma, Siracusa, il settantesimo anniversario della Fondazione della Repubblica italiana. La manifestazione ha avuto inizio alle 10.30 con la rassegna da parte del prefetto di Siracusa Armando Gradone e del comandante del Comando Marittimo Sicilia, ammiraglio Nicola De Felice, della compagnia interforza in armi costituita da soldati, marinai, avieri e carabinieri, agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e delle rappresentanze del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, delle associazioni combattentistiche d'arma e delle associazioni di volontariato di protezione civile. Dopo l'alza a bandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi di una studentessa della consulta provinciale studentesca, di un'elettrice del 1946. Dei due eventi del voto per il referendum e quello che era la grande novità che le donne votavano per la prima volta, io ricordo che era il primo ad avere una maggiore attenzione e un maggiore rilievo. Il voto alle donne era passato un po' in secondo piano. Del sindaco di Siracusa e del professor Carlo Trigilia, docente presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Firenze. La cerimonia si è conclusa con il saluto del prefetto e con la consegna della medaglia d'onore per i cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. L'onorificenza è stata consegnata ai familiari di Angelo Cascone. Presenti i gonfalloni dei comuni della provincia di Siracusa e del libero consorzio comunale. Il coro degli alunni del IV Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Siracusa ha eseguito l'inno nazionale, mentre l'orchestra d'archi del liceo musicale Corbino Gargallo di Siracusa ha eseguito i brani musicali che hanno accompagnato tutta la cerimonia. Presenti all'evento numerose scolaresche del capoluogo e della provincia. Elezioni del 46, quando nacque la Repubblica noi abbiamo ascoltato chi c'era. Siamo qui con il professor Carlo Trigilia, docente della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Firenze. Siracusano di nascita, Fiorentino di adozione e qui a festeggiare con noi i 70 anni della Repubblica Italiana della Fondazione. Sì, sono stato molto contento di essere stato invitato a festeggiare, a ricordare la Festa della Repubblica qui a Siracusa, che è la mia città natale, dove torno sempre volentieri diciamo. E quindi ho partecipato con grande piacere a questa manifestazione, cercando di suggerire qualche spunto sull'importanza di questa festa. E come dicevo, spesso le feste le diamo per scontate, cioè ci dimentichiamo di che cosa c'era all'origine di queste feste. E invece è molto importante ricordare il passaggio che questa festa ci sollecita a ricordare, e cioè l'introduzione della Repubblica nel nostro ordinamento e l'approvazione della Costituzione Repubblicana, che è strettamente legata alla festa della Repubblica. Questo ci ha garantito decenni di progressi non solo economici, ma anche dal punto di vista delle libertà fondamentali, che oggi non sono affatto scontate in tante parti del mondo. Siamo presenti con l'ammiraglio del Comando Marittimo della Sicilia. Sì, è un impegno continuo che ci premia per il fatto che riconosciamo anche qui a Siracusa una parte della comunità italiana rappresentata in maniera adeguata. Le forze armate sono, come sempre, in piena attività. In particolare la maria militare è coinvolta, come sapete, nella salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto nel canale di Sicilia. Vede continuamente un sforzo profuso per salvaguardare, purtroppo, le vicende che ci coinvolgono. E intanto cent'anni fa moriva Cesare Battisti, redentista, eroe, poi morto tragicamente impiccato Siracusa all'uomo, ha dedicato una piazza, ma anche una statua. Cent'anni dalla morte di Cesare Battisti, politico e redentista, uomo di cultura, cittadino austriaco durante la Grande Guerra, combatte però nell'esercito italiano. Fu processato e impiccato per alto tradimento in quanto deputato austriaco. Battisti fu propagandista e sostenitore dell'intervento italiano contro l'impero austro-ungarico, tenendo comizi nelle maggiori città italiane. Accusato di tradimento, fu impiccato il 12 luglio del 1916. Siracusa gli ha già dedicato una piazza e una statua che ne ricordano le gesta. L'Associazione Culturale Lambadoria di Siracusa, nel centenario dell'impiccagione di Cesare Battisti, inizia gli eventi storici in suo ricordo. Oggi ci troviamo, assieme anche all'Associazione Nazionale di Muturati e Invadi di Guerra di Siracusa, a ricordare questa figura eroica, irredentista. Anche c'è la partecipazione delle scuole come liceo scientifico, qui rappresentata dalla sua classe con il nostro professore Baronessa, liceo delle scienze umane. C'è anche la partecipazione degli studenti. Perché è importante ricordare nel centenario dell'impiccagione questo nostro eroe italiano, irredentista, impiccato dagli austriaci il 12 luglio del 1916. Inizieranno altre iniziative, sempre Siracusa, tra cui una cerimonia vera e propria al monumento di Cesare Battisti a Ortigia, che purtroppo è indegato perché lo conosciamo tutti. Così oggi apriamo queste iniziative. Le strade siracusane emietono un'altra vittima. Si è spenta, infatti, nella tarda serata di ieri, la vita di un centauro di Portopalo. Marco Corallo, 28 anni, si trovava in sella la sua Yamaha R6. È morto a seguito delle gravi lesioni riportate nel sinistro in cui è stato coinvolto. Inutile il suo ricovero all'ospedale di Maria di Avola. L'incidente si è verificato alle 19 in via Vittorio Emanuele a Portopalo, a Corallo. Per causa al vaglio dei vigili urbani si è scontrato contro un auto che procedeva in senso inverso. La vittima lavorava con il padre, il titolare in officina di Elettrauto. Il sindaco Giuseppe Mirarchi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna e anche per quella di funerale, annullando le cerimonie, sia quelle di oggi per la festa della Repubblica, che lo spettacolo musicale previsto per sabato prossimo. Un fenomeno drammatico che non accenna a terminare quello dell'immigrazione. Allora il sindacato, il SIULP della Polizia chiede soluzioni per gestirlo. Gestione del fenomeno dell'immigrazione, posto di polizia al pronto soccorso, movimentazione del personale. Sono questi tre punti sui quali il sindacato SIULP interviene per spingere l'amministrazione a intervenire perché si trovino delle soluzioni. Il problema maggiore è costituito dall'impiego del personale per fare fronte all'emergenza sbarchi. Abbiamo iniziato una serie avvertenza con l'amministrazione di Siracusa su importanti questioni che riguardano i diritti elementari dei poliziotti e le richieste dei cittadini che reclamano una polizia efficiente e motivata, afferma il segretario del SIULP, Tommaso Bellavia. Non molleremo di un millimetro, gli uffici della Polizia di Stato sono impegnati per l'accoglienza, l'identificazione e la vigilanza, oltre che l'accompagnamento dei migranti. Questa emergenza, che poi rischia di protrarsi per lungo tempo ancora, sottrae risorse umane agli altri compiti di istituto che risultano sacrificati, a scapito dell'ordine pubblico con l'aumento del numero di rapine, scippi e atti di bullismo. Altro argomento che emerge dall'intervento del SIULP è quello relativo al posto di polizia all'ospedale Umberto I di Siracusa. Sappiamo quanto sia importante, se non strategico, il presidio all'Umberto I di Siracusa, dice Bellavia. Tuttavia, dalla copertura H24 si è passati progressivamente ad appena due turni e si vorrebbe addirittura chiudere del tutto, come avvenuto lo scorso 25 maggio. Aspettiamo da quest'ora precise risposte sui criteri della mobilità interna e su tutta una serie di questioni che riguardano l'organizzazione di uffici particolarmente sensibili ed importanti. Parliamo adesso di banche e indagini sugli istituti di credito. Il sindacato Fabbi valuta l'impatto sulla salute psicofisica del lavoratore. I piani industriali, le fusioni, le aggregazioni, gli esodi, i fallimenti, la flessibilità estrema nelle mansioni rappresentano termini che incidono sulle condizioni di vita, di lavoro e di impatto sociale del bancario. Il lavoratore del credito è stretto tra l'incudine di un management sempre più schiacciante nelle pressioni commerciali sulle reti di vendita ed il martello costituito da una clientela sempre più esigente ma anche pronta alla denuncia civile e penale. In caso di presunti torti subiti, infatti, il cliente promuove azioni legali direttamente contro il lavoratore bancario piuttosto che nei confronti dei vertici aziendali. La tutela normativa delle lavoratore sottoposta a queste pressioni psicofisiche e commerciali passa anche attraverso la valutazione del rischio di stress lavoro. Il sindacato Fabbi, principale organizzatore sindacale del settore credito a Siracusa, per lottare ogni forma di abuso ai danni dei lavoratori, sta elaborando un'indagine tra i lavoratori denominata Lavora serenamente, proprio per valutare l'impatto sulla salute psicofisica dello stress da lavoro nelle difficili condizioni attuali. Questa indagine, dichiara il coordinatore provinciale della Fabbi, Gaetano Motta, avrà anche una funzione di prevenzione rispetto agli effetti sulla psiche che potrebbero derivare da situazioni di maggiore ansia e stress legate alle dinamiche professionali. Ad indagine conclusa ci riserviamo di comunicarne i risultati. Il Plemirio diventa riserva per un giorno, in bici, con le navette, con la barca, è stato possibile vivere quello che sembra ed è sicuramente un vero e proprio paradiso terrestre siracusano. Il coordinamento SOS Siracusa ha dotto vita a una giornata dal titolo Plemirio, riserva per un giorno, in cui per un giorno appunto è stata attrezzata la nascente riserva Capo Muro di Porco, penisola maddalena, come se fosse già operativa. Attivo un servizio di collegamento via mare tra Ortigia e Punta del Pero. Da lì sarà attivo un servizio Busnavetta da e per Capo Muro di Porco, con tre soste ai varchi Punta Mola, Punta Tavernara e Muro di Porco. Presente anche un servizio noleggio bici presso la stazione di arrivo a Punta del Pero. Una giornata dedicata alla riscoperta di un luogo incantevole come il Plemirio, oggi diventato virtualmente riserva naturale attraverso varie attività gratuite. Escursioni, visite archeologiche guidate in italiano ed inglese, snorkeling, musica, caccia al tesoro, recitazione, bird watching, bio watching, speleologia, arrampicata sportiva e tanto altro. Tutto questo per dimostrare quanto vicina sia la futura riserva d'Ortigia, quanto semplice sia attrezzarla e raggiungerla e quanto utile potrà risultare per l'economia delle strutture alberghiere ricettive, per lo sviluppo di servizi connessi al turismo e il benessere stesso dei residenti. Un giro di prova per gli operatori di settore nella gestione e promozione di un servizio che, ci auguriamo, possa diventare stabile in futuro. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio da proporvi, il giornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. Grazie. 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 Grazie.